Benvignante Sabato 24 luglio, nel Parco della Delizia di Benvignante, l'Associazione Torrione organizza un concerto con il mito New Trows. Lo spettacolo avrà inizio alle 21 e in occasione verrà aperta la Trattoria della Delizia, dove verranno proposte specialità gastronomiche locali. Codigoro Ancora ricoverati in rianimazione entrambi gli operai, Santi perde la gamba, mentre le condizioni di Milone sono gravi ma stabili. Incerta è la data del funerale del 53enne Massimo Gnani, ucciso sul colpo dal camion. Argenta False fatture per salvare la Cop Costruttori Senza quelle scamotage l'azienda avrebbe chiuso con 66 miliardi di perdite. La maggior parte delle banche erano a conoscenza di queste manovre. Incassavano soldi su lavori non fatti. Ferrara Un dipendente di un supermercato della città, nella serata del mercoledì, faceva la spesa gratis. È stato arrestato mentre tentava di rubare generi alimentari del valore di 100 euro. Riempiva il carrello e lo scaricava in macchina senza passare per la cassa. Ferrara Ferrara Music Park è la terza edizione. Concerti e non solo cominceranno dal 30 luglio nel Sottomura di Via Bologna. Un intero mese, 31 notti e 31 spettacoli. Ma dal 21 al 29 agosto, dopo la mezzanotte, si esibiranno gli artisti di strada. L'anno 538 d.C. fu un anno di paurosa carestia in gran parte d'Italia. Nell'opera Annali d'Italia del 1764, lo storico Ludovico Antonio Muratori riporta quanto segue. Due donne rimaste sole in casa, nel territorio di Argenta, uccidessero di nottetempo, a mano a mano, che capitavano nell'abitazione e si mangiazzero ben 17 uomini. Grazie a tutti.